Partirò per Washington per partecipare all'Assemblea del Fondo Monetario Internazionale e mi faceva molto piacere poter annunciare che abbiamo appunto preso misure per riportare il saldo dell'indebitamento netto nella soglia del 3%. La manovrina varata ieri da Palazzo Chigi a questo serve, dice il Ministro dell'Economia, tranquillizzare il Fondo Monetario Internazionale sulla stabilità del Governo Letta e dimostrare che l'indebitamento italiano è sotto controllo. Più tempo si perde e più è difficile gestire le aspettative dei mercati, ha spiegato ieri a tardasera Saccomanni nella conferenza stampa del Dopoconsiglio e così oggi anche all'FMI potrà illustrare le misure prese. La manovra prevede la copertura di questo importo di 1 miliardo e 600 milioni essenzialmente con due modalità, una sono la vendita di immobili di proprietà del demanio dello Stato per un importo di 500 milioni, due la riduzione di spese dei ministeri e dei trasferimenti agli enti locali per l'importo di 1 miliardo e 100. Resta il fatto che il Fondo Monetario ieri aveva avvertito se salta del tutto l'Imu vanno comunque trovate le coperture a compensazione, mentre sull'imposta sugli immobili in realtà la decisione ultima va ancora presa. La manovrina da 1 miliardo e 600 milioni in pratica riporta il deficit al 3,1%, per arrivare al 3 entro la fine dell'anno servono altri 2 miliardi e 400 milioni, quanto appunto vale il gettito Imu. Dopo Washington, Saccomani è atteso all'Eurogruppo e all'eco fine di Bruxelles e martedì, al rientro a Roma, il Consiglio dei Ministri dovrà varare la legge di stabilità 2014-2016 da 14 o 15 miliardi di euro per il primo anno. È qui, in quella che una volta si chiamava legge finanziaria, che si dovranno sciogliere i nodi finora irrisolti. Se davvero salta la seconda rata dell'Imu del 16 dicembre, rispunteranno gli aumenti delle accise sulla benzina evitati ieri e soprattutto si dovranno trovare i 300 milioni errotti necessari a rifinanziare la cassa integrazione in deroga e i 35 promessi per la social card destinata ai meno abbienti. Più sicuri dovrebbero essere i 120 milioni decisi per garantire ai comuni le mancate entrate dell'Imu e l'allentamento del patto di stabilità per le regioni più virtuose nei conti. A meno di una settimana dalla discussione a Palazzo Chigi sul contenuto della legge di stabilità, il Ministro dell'Economia ancora non si sbilancia, anche se conferma comunque l'obiettivo principale scelto dal Premier Letta. Gli obiettivi di dare un significativo segnale sul fronte della riduzione del cuneo fiscale, di dare un significativo segnale sul fronte della disponibilità nelle buste paga dei lavoratori è senz'altro confermata e condivisa da tutti.